Un suo confratello vescovo diceva che l'eutanasia è conseguenza logica della cultura dell'aborto. Che cosa ne pensa, eccellenza? Grazie. Non voglio dire il nome, ecco, del vecchio partito comunista, il quale mi diceva che lui ritiene che la deriva antropologica che la nostra società sta vivendo, ma che la società, diciamo così, occidentale, parte dall'approvazione della legge sul divorzio. Ecco, quello è il punto, secondo lui, il punto di partenza per tutte le tappe successive che hanno portato appunto a questa visione, diciamo così, di una libertà, ecco, che è una libertà svincolata da qualsiasi valore etico. Grazie. 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 Grazie.